Atti vandalici all'interno degli spogliatoi della struttura sportiva Antonio Medici a Polla, si tratta del campo di calcio. Non solo, si registrano anche usi impropri della struttura con interventi e ingressi di persone non autorizzate che sono entrate all'interno della struttura o scavalcando le mura per poter anche semplicemente giocare o anche, come in questo caso, commettere atti illegali come lo svuotamento di un estintore da 10 kg in tutto lo spogliatoio. Per questo motivo il comune guidato da Massimo Loviso ha previsto un'ordinanza per chiedere più controlli alla struttura, alla polizia municipale ma anche alle società sportive che in modo legittimo ne usufruiscono. Secondo quanto si legge sull'ordinanza, chi non rispetterà queste norme e chi userà in modo improprio l'Antonio Medici di Polla potrà andare incontro a reati penalmente rilevanti per questo motivo aumenteranno i controlli sul campo di calcio da sempre considerato un gioiellino sportivo per Polla.